allora riprendiamo ancora due cose su quell'esempio che abbiamo visto prima dell'intervallo tra l'altro una mi è stata giusto chiesta quindi vale la pena ragionarci sopra un secondo e poi diciamo parliamo brevemente dell'aspetto del context però senza questo punto fare esempio è abbastanza facile a capire allora avevamo il nostro form e ricordate viene fuori abbiamo tirato fuori una maniera per mettere un messaggio di errore che può sparire quindi questo bottone mi aggiorna lo stato del messaggio di errore che teniamo sotto forma di stringa se vuota non c'è niente da visualizzare ok vi avevo detto prima attenzione i form perché noi qui non abbiamo fatto un bottone di tipo submit ma se noi avessimo un bottone di tipo submit per qualsiasi motivo perché ci viene comodo perché così poi riusciamo a gestire l'invio cioè insomma quindi mettessimo che so type submit ok ok tra l'altro ecco guardate ne approfitto giusto per fare rivedere che so ogni tanto quando siamo qui facciamo qualche piccolo miglioramento estetico no ma tipo ricordate che siete sempre con bootstrap quindi tutte le cose che avete imparato in bootstrap all'inizio no soprattutto di di stile potete usarla quindi che so se c'è il variant per dire vogliamo fare secondary differenziamo il colore dei due bottoni va bene allora questo è solo così mi viene il bottoncino grigio anziché è blu ok ma questi sono dettagli io adesso ho fatto il bottone submit ok quindi schiaccio questo bottone save questo bottone di tipo submit ok no non mi ha ricaricato l'apps perché c'era l'errore ho fatto l'endo submit ok però è perché non clicca facciamo forma facciamo così and submit se dovete mettere il gestire submit lo dovete fare on submit come evento del form e non del bottone come ho visto c'era un vostro collega che mi ha chiesto l'evento on submit si scatena sul form ok quindi se voi dovete sapere dove mettere il submit e sul form quindi io adesso salvo ok no non mi funziona per quello mattino o submit and submit mi dovrebbe essere scatenato allora forse ho sbagliato il type submit cerchiamo cerchiamo react bootstrap 5 ehm button type submit ehm cosa ho cerchiamo il submit submit ok ok type ah ecco devo fare as input ok mi sembra sto andando un po' troppo live non l'ho provato prima mi sa ehm ok vediamo se funziona così add add no c'è qualcosa che non va andiamo a vedere la console vabbè tanto ci fa bene ehm ah input a serve voi denomans not have children nor use danger ehm ok va bene non posso fare il bottone submit ok ehm 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 non posso metterci dentro una scritta quindi devo fare meglio save ok ehm sto facendo ehm sto ricreando un input type uguale submit però fatto in bootstrap ok ehm ehm quindi in realtà dove è andata quindi rifacciamo add ok save non mi viene scatenato l'evento si beh giusto deve metterlo all'interno del for ha ragione è vero grazie mille ehm meno male che c'è sempre qualcuno più attento di me ehm ma è un bene eh ehm ehm volevo solo farvi vedere questa cosa che appunto ok vabbè adesso ci ha cambiato la visualizzazione ma non fa niente ehm ok quindi questo scatena diciamo la la gestione del ehm del form da parte del browser ok ehm io in questo momento mettiamo anche 18 mettiamo anche 18 così non ci rompe le scatole questa cosa 18 ok tolgo il prevent default no e volevo farvi vedere cosa capita ok quindi add facciamo save mi si è ricaricata la pagina ok ah no scusate no non si è ricaricata perché non si è ricaricata c'è qualcuno che ha un'idea perché non si è ricaricata probabilmente default ho salvato forse non si eh perché non mi commenta questo dovrebbe ricaricare la pagina però non ho messo un se no ve lo dico lo provo poi da parte ma comunque target vabbè lasciamo perdere sentite ve lo ve lo scrivo poi sulla chat sennò eh perdiamo troppo tempo devo provarlo prima evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge va bene si vede che il form di di bootstrap fa qualcosa dopo lo provo ehm quindi disfiamo solo il pasticcio che ho fatto ok comunque dobbiamo magari lo faccio vedere la prossima volta ma se c'è un problema ehm ctrl z no la variante la voglio lasciare ctrl y ok va bene ehm fare live coding è sempre un po' rischio una cosa invece che voglio sottolineare e che è importante eh perché poi molti l'hanno chiesto in laboratorio e anche uno nell'intervallo quindi nel testo del laboratorio c'è scritto no sulle ehm sui come si chiama sui film no non modificare l'array originale ok quindi ma se io tengo ehm diciamo questo array ok abbiamo capito tutti che dobbiamo tenerlo in uno stato perché poi dobbiamo diciamo poterlo utilizzare eventualmente modificare no però come faccio a fare i filtri se non modifico l'array originale no sapete che nel laboratorio c'è da fare i filtri quindi visualizzare che sono solo i film preferiti solo da una certa data e così via e io ho una lista di film che tengo in uno stato un po' come qui la lista degli esami no e qual è ehm devo prima di tutto capire qual è il senso di ehm di questi filtri questi filtri come viene detto nel testo sono filtri solo di visualizzazione cioè io nella mia applicazione ho una lista di film e decido di visualizzarne solo alcuni ok ok quindi io ragiono in termini di o una visualizzazione questa visualizzazione viene calcolata al bisogno quando eh diciamo clicco sul filtro corrispondente no però non mi modifica la lista dei filtri dei scusa dei film eh che sono contenuti nell'applicazione perché se no come qualcuno di voi ha sperimentato facendo la set film so come l'avete chiamata modificando l'array poi vi siete persi alcuni film perché li avete cancellati giusto? eh allora bisogna capire come vogliamo fare eh se noi vogliamo cancellare i film per avere una lista di film visualizzati ok in uno stato dobbiamo avere due stati ma non è la soluzione che vi consiglio perché? perché se no poi spariscono come come qualcuno di voi si è accorto no? cioè io li tolgo perché non fanno parte della della visualizzazione di quel filtro e però una volta che li ho cancellati li ho cancellati ehm quindi eh allora uso uno stato che fondamentalmente è solo uno stato che mi mantiene la lista originale eh non ve lo consiglio perché? perché poi quando avremo una situazione più seria in cui eh la lista dei film originali non sta nell'applicazione ma sta sul server e la carichiamo dal server al bisogno questo secondo stato non esiste più è lo stato che abbiamo localmente è solo più lo stato che vogliamo effettivamente tenere nell'applicazione e dobbiamo decidere dove andare a fare il filtro se il filtro lo fa fare lo fa il server se il filtro lo facciamo noi nell'applicazione quindi noi abbiamo nell'applicazione una lista di informazioni che vogliamo noi tenere nell'applicazione perché riteniamo sia utile fare così cos'è che quando è che riteniamo sia utile fare così? quando vogliamo avere una risposta rapida dell'applicazione quindi abbiamo una lista qui di esami e lì di film no? cliccando da qualche parte li possiamo filtrare rapidamente senza poi andare a aspettare il server o qualcun altro che ci faccia questa operazione ok? quindi in questo senso è ragionevole calcolare che cosa viene visualizzato all'interno dell'applicazione quindi non toccare quello stato che contiene la lista completa e andare a decidere che cosa visualizzare con una funzione a cui diamo come perometro il filtro correntemente selezionato se è all tutto se i favoriti guarda se c'è il flag favorito e se c'è me lo metti nella lista da visualizzare e così via ok? è un po' come facciamo qui noi avremo una una map che fondamentalmente nella visualizzazione sulla base del filtro selezionato decide se farci vedere quell'elemento dell'array dei film oppure no ok? per fare ciò dobbiamo sapere qual è il filtro selezionato quindi il filtro selezionato in quel momento diventa uno stato ok? che tra l'altro viene anche comodo perché come qualcuno di voi ha visto volevamo scrivere qual è il nome del filtro selezionato da qualche parte quindi avere questa informazione viene comoda ok? se invece voi fate un filtraggio che corrisponde a eliminare degli elementi da una lista poi avete una nuova lista e basta e non avete più il nome del filtro no? il nome del filtro se non lo tenete lo perdete e poi succede che appunto non sapete più dove metterlo qualcuno lo voleva visualizzare mi fa il get element by id e va a metterci il nome eccetera che non va bene no? se è un'informazione che dobbiamo tenere e visualizzare va a finire in uno stato va bene dobbiamo solo poi capire in quale punto della nostra gerarchia dei componenti va a finire ok? se l'informazione va tenuta non dobbiamo toglierla dallo stato quindi se il filtro lo facciamo e poi lo dobbiamo annullare dobbiamo per forza avere da qualche parte uno stato che ha la lista di tutti i film ok? se l'operazione lo elimina per sempre come è che so la nostra delete qui dell'azione di cancellazione dell'esame lo elimina per sempre va bene allora andiamo a modificare lo stato ma se l'azione è solo un filtraggio di visualizzazione per qualche altro motivo poi vogliamo poter tornare indietro dobbiamo farlo in fase di visualizzazione ok? o altrimenti dobbiamo duplicare lo stato ma abbiamo detto è sempre scomodo duplicare lo stato perché poi abbiamo due liste da tenere sincronizzate ed è sempre un problema eh? ci confondiamo ok? quindi 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 anche nel nostro caso qui dove è andato noi tocchiamo la lista degli esami perché effettivamente vogliamo cancellare uno e non ci ricomparirà più in futuro ci ricompare perché ricarichiamo l'applicazione perché vogliamo fare eccetera però se avessimo un server saremmo andati a cancellarlo nel server quindi non vorremmo più vederlo ne aggiungiamo uno vorremmo che stia sempre lì quindi saremmo andati ad aggiungerlo sul server e così via ok? non è solo un click ordina per data un click filtra tutti quelli del 2022 e così via che è una questione di visualizzazione quindi dobbiamo imparare a distinguere le questioni di visualizzazione che possiamo gestirle con uno stato di visualizzazione quindi nel vostro caso nel laboratorio il nome del filtro attivo per esempio ok? e poi fare una funzione che sulla base del nome del filtro attivo mi dica questo sì questo sì questo no eccetera e invece le funzioni che vanno effettivamente a modificare uno stato che contiene i dati ok? quindi ci sono degli stati che contengono i dati in questo nostro esempio è solo l'exams ok? che è la lista degli esami come nel vostro esempio nel laboratorio è la lista dei film e poi ci sono degli altri stati che servono per la visualizzazione ok? noi abbiamo il show form, l'error message e i vari elementi del form voi avete il filtro ok? quindi mi raccomando che sia ben chiara questa differenza se non vi è chiara io ho finito la lezione mi chiedetevi fermo ve lo racconto ve lo spiego e così via ok? o in laboratorio perché? perché se non c'è chiaro questo diciamo diventa complicato cominciare a ragionare in termini di stato correttamente nella nostra applicazione ok? e soprattutto quando andiamo avanti quando quello stato poi lo caricheremo dal server ne abbiamo due e non sappiamo più cosa fare ok? va bene quindi qui stiamo cancellando dallo stato perché noi la nostra azione di cancellazione rimuove effettivamente l'esame della lista non lo vogliamo più vedere ok? l'aggiunta lo aggiunge e modifichiamo quella lista non è solo una questione di visualizzazione per noi qui la visualizzazione non ha un filtro visualizza tutto se avessi un filtro avrei fatto un nuovo stato dicendo che cosa ha senso visualizzare voglio un ordinamento fatto in un certo tipo ci sarebbe uno stato che mi dice come ordinare ok? ok? e così via ok allora direi che chiarito questo punto spero sia chiaro per tutti mi raccomando se ci sono dei problemi ditemi andiamo a parlare di context perché sì eccolo qua context quindi ovviamente in ogni lezione andiamo un pochino avanti in react questo è abbastanza semplice quindi non ci porta via troppo tempo abbiamo già detto prima quando sviluppavamo l'applicazione ogni tanto abbiamo bisogno di passare delle informazioni nella gerarchia dei componenti quella gerarchia magari da app per dire fino a chissà dove in un forma in un altro elemento e così via se abbiamo solo gli attributi vuol dire che ogni volta dobbiamo fare un attributo passare passare l'informazione riceverla come prop nel componente ripassarla nel nuovo componente e così via ok? quindi dobbiamo fare il cosiddetto props drilling cioè drill è fare il buco passare da un componente all'altro all'altro fino ad arrivare a quello che ci interessa questo è scomodo quando dobbiamo passare tra tanti componenti e in più in quei componenti stiamo inserendo un attributo che se dobbiamo modificare lo dobbiamo modificare per tutti questi componenti magari a quel componente lì non serve a niente è solo un copiare e ricopiare il codice che potrebbe essere inutile addirittura per quel componente per fortuna React hanno pensato a questo problema e offrono questa API cosiddetta context che è una specie di implementazione di proprietà globali che possono essere visibili in tutta l'applicazione o meglio dove metteremo il provider comunque lo chiariamo che tipo di informazione ha questa necessità? ci sono delle informazioni che tipicamente sono necessarie in tutta l'applicazione per esempio una cosa che può sembrare banale ma per esempio il tema cioè la combinazione di colori queste cose che diciamo vengono condivise in tutti i componenti dell'applicazione volete il componente con lo suono chiaro o scuro e così via ma in generale diciamo questo tipo di informazione che fa sì che i componenti in fase di visualizzazione si presenti in una maniera piuttosto che in un'altra e di solito tra l'altro questi componenti sono vicini alle foglie dell'albero quindi sono quelli più in profondità nell'albero e quindi sono quelli che ci richiedono di passare questa prop tema chiaro o scuro e l'utente autenticato o no fino all'ultimo componente e i componenti in mezzo, i cosiddetti container, quelli che racchiudono gli altri di fatto non hanno bisogno di questa informazione perché poi non ne fanno niente perché il colore e tutto il resto è determinato dall'ultimo componente allora per evitare questo problema di passare con il valore per tutti i componenti della catena dalla radice che poi il punto dove io vado a caricare questa informazione perché l'applicazione ha il tema e ce l'ha per tutta l'applicazione quindi l'informazione starà in app perché se deve essere visibile a tutti deve stare in app quindi nella radice per evitare di passare tutto, tutte queste informazioni in ogni componente vado a introdurre un meccanismo che mi consenta di recuperare questa informazione appunto come se fosse una variabile globale come in un linguaggio normale avreste questa variabile globale cioè c'è una variabile che è accessibile da tutte le parti dell'applicazione senza che io abbia dovuto specificarla come proprio in ogni singolo componente in ogni passaggio dell'albero ok, quindi io vi ho fatto l'esempio del tema ma per esempio un'altra che useremo spesso è lo stato logged in, logged out quando facciamo poi l'autenticazione se l'applicazione in quel momento ha un utente autenticato fa vedere certe cose se no altre cose un altro esempio è il linguaggio io scrivo sempre ad, cancella eccetera ma la volesti fare in italiano, in francese, in cinese e così via cioè non è che posso passare cioè tutto come props è solo per avere a disposizione diciamo le scritte nelle varie lingue e se cambio lingua devo ripassare tutto e così via allora come funziona questa struttura in realtà si chiama context e che mi dà la possibilità di fornire un'informazione che di fatto è il valore di una variabile un value però siamo in javascript questo value può essere qualsiasi cosa tipicamente è un riferimento a un oggetto che contiene diverse proprietà quindi non so limitato a passare un unico valore ma posso passare tanti valori con un oggetto ok per passarli il meccanismo prevede che ci sia un provider a cui io dico qual è il valore da distribuire e poi dei consumer che sono in grado di agganciare questo valore quindi non è esattamente come in un linguaggio di programmazione normale dove ho la variabile globale io dico questo global che so language e c'è da tutte le parti ho due componenti apposta una sono un context provider e l'altro il context consumer che devo inserire nel mio albero per fare in modo di passare questa informazione senza l'attributo in uno dico quale valore da passare nell'altro aggancio il valore ok vedremo che il provider non ha niente altro non ha nessuna alternativa se non usare un component quindi sostanzialmente a livello di app o comunque a un livello alto nella mia gerarchia dei componenti dovrò inserire questo context provider per il consumer ci sono due modi diversi secondo è molto più pratico che uso un hook adesso vediamo qualche esempio quindi come faccio a crearlo? prima di tutto create context c'è una funzione apposta di react gli devo dare un valore di default va bene diciamo un po' come l'ho stato per inizializzarlo devo dargli un valore di default se no finisce che prenda undefined e questo crea un context object in cui ho punto provider e ho punto consumer ok quello che ho creato punto provider lo posso inserire da qualche parte nell'albero dei componenti e poi i componenti possono agganciare questo provider nel momento in cui ne hanno bisogno quindi anziché avere props e punto hanno bisogno di essere dentro un consumer che gli fornisce questo valore vediamo gli esempi perché detto così mi rendo conto che non è di facile comprensione per esempio prendiamo diciamo la lingua così abbiamo qualcosa in più del semplice chiaro scuro ok quindi vogliamo realizzare un'applicazione in cui vabbè c'è un bottone mi cambia uno stato questo stato è un'informazione che io devo distribuire a tutti i componenti quindi che metterò a disposizione tramite questo context provider allora in app vi faccio il mio stato siete tutti d'accordo che la lingua è uno stato perché è uno stato perché è un qualcosa che voglio poter cambiare sulla base di un'azione di un utente e uno stato di visualizzazione va bene ma è uno stato ok ok se no sarebbe una costante buon fine non ho più bisogno di tutto il discorso che sto facendo quindi ok quindi io metto uno stato lo metto in app poi va bene siccome lo voglio cambiare mi faccio poi anche una funzione comoda per cambiarlo che userò poi come handler nel bottone che lo cambia o dove mi pare ok quindi qui non abbiamo fatto niente di particolare cioè questo potrebbe essere tranquillamente l'esempietto del primo stato che abbiamo visto anzi forse l'avevamo proprio visto no ciao e lo solo che l'abbiamo diciamo avevamo ragionato direttamente con diciamo avevamo ragionato con un boolean forse vero o falso qui c'è una stringa che mi identifica la lingua un po' come abbiamo fatto prima abbiamo deciso non di mettere un boolean vero o falso per l'errore ma abbiamo messo una stringa decidiamo noi cosa c'è nello stato ok il tog va bene cambia dall'uno all'altro e va bene ok come facciamo a creare il context react create context qui non ci piove dobbiamo avere a disposizione react vabbè ma basta importarlo e poi e poi e poi va bene qui è perché l'hanno voluto fare con un file a parte perché così rimane comodo da importare in tutti i componenti no? se abbiamo i componenti sparsi in tanti file rimane comodo avere queste questo meccanismo in un file separato così lo importiamo e il codice l'abbiamo scritto una sola volta ok e poi il fatto che siano nei dati ci torniamo sopra dopo vediamo come funziona io tutto quello che deve ricevere un certo valore lo devo mettere dentro il componente provider cosa c'è scritto qui a sinistra quello che c'è scritto qui a sinistra è il componente che è stato creato da react col create context ok quindi in realtà è un oggetto però va bene oggetto punto provider è un componente react quindi react lo interpreterà come un componente che non ha da visualizzare niente nel DOM quindi non produce un div span qualsiasi cosa ma semplicemente dice a tutti gli altri componenti nella gerarchia guardate che ha a disposizione questo valore se lo volete usare ok quindi questo è il modo con cui mettiamo a disposizione il valore come facciamo a dirgli qual è il valore che mettiamo a disposizione cioè un attributo apposta value uguale del provider in cui io metto quello che voglio io qui è una cosa semplice ho messo una stringa ok quella stringa che è lo stato che abbiamo messo prima lo stato che ho creato con la use state quindi qui diciamo nei puntini ci sarebbe la use state questa ok 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 questo language adesso sarà a disposizione a tutti i componenti al di sotto del provider quindi annidati sotto il provider ok per usarlo come faccio purtroppo non è così immediato uno è un metodo un po' scomodo che infatti finisce che non usa nessuno devo mettere un componente consumer e soprattutto per usarlo devo scrivere tutto sotto forma di una callback che è la cosa un po' scomoda no? devo fornire una funzione di callback nelle parentesi graffe non posso scrivere semplicemente jsx devo scrivere una callback che prende come parametro il valore del context e cosa mi dà in realtà mi dà ciò che voglio renderizzare quindi può qui sostanzialmente nel commento metto il jsx che corrisponde a ciò che voglio visualizzare quindi agli altri componenti però scriverlo sotto forma di callback non è il massimo qui vedete l'esempio come diventa in welcome dovrei fare return va bene come facevo prima language punto consumer poi fare una callback language ok il nome l'ho deciso io il parametro è quello che io ho messo per value e poi semplicemente lo uso lo uso e quindi se ho che so la lingua che so potrebbe essere l'indice di un array e quindi poi prendo la traduzione che so di welcome in italiano in inglese francese e così via e quindi lo uso semplicemente come ritengo ok va bene e lo posso usare in tutti i componenti perché tutti i componenti che sono sotto provider possono usarlo per esempio anche button per esempio button lo usa per decidere il nome del bottone se scrivelo in italiano in inglese ok sempre con questa con questo sistema della callback ok va bene questo è un modo il modo che però vi consiglio che è anche un po' più intuitivo e facile da usare facile da leggere è quello di usare un hook ok noi per ora abbiamo visto un unico hook che è quello della use state su cui abbiamo speso tanto tempo perché è importante capire cosa va messo come state il context alla fine un hook è una funzione una funzione che noi importiamo da react e ci dà qualche cosa l'hook del context fondamentalmente ci dà il valore e quindi ci riporta una scrittura un po' più comoda noi gli passiamo l'oggetto che corrisponde al context e lui ci tira fuori il valore ok quindi diciamo è sicuramente una scrittura più comoda di avere la callback e così via è un po' come no non voglio dire come la use state che è una cosa diversa però quindi vediamo l'esempio scusate prima di andare avanti purtroppo non c'è un meccanismo come la use state per creare un context con un hook quindi l'unico meccanismo per crearlo è questo che abbiamo visto react create context ok e questo è un po' una limitazione ma va bene insomma non è poi così limitante noi fondamentalmente creiamo react create context mettiamo il provider al livello massimo che ci interessa quasi sempre a livello di app e poi dentro i componenti lo possiamo usare se lo usiamo come hook diventa facile usarlo perché l'esempio di prima che aveva le callback diventa semplicemente che all'inizio del nostro componente facciamo use context language context ci tiriamo fuori il valore che ci interessa e poi lo usiamo lo usiamo come siamo abituati sempre a fare ok quindi nel nostro return non dobbiamo cambiare più di tanto il codice semplicemente abbiamo una nuova variabile a disposizione nel context ok dal context anzi quindi rispetto a prima non ve lo faccio rivedere tanto punto si usa poco mi sembra ci sia forse ancora un esempio noi tiriamo fuori la variabile anziché avere props.language che avremmo potuto avere perché qui bastava dire che qui welcome language uguale language e poi vabbè button language uguale language e qui avremmo avuto props.language ok ovviamente questo è un solo livello perché devo farlo stare sulle slide ma se avevo quattro livelli di componenti ad ogni giro dovevo fare ad ogni componente dovevo fare language uguale language ok invece col context non c'è più bisogno di farlo io faccio use context in qualsiasi componente qui dentro ho annidato dentro questi e mi viene fuori il valore come dicevo all'inizio sulla slide teletrasporto questo valore dal provider al consumer in questo caso il consumer usa la use context ok quindi il concetto è semplice e di fatto l'esempio si esaurisce lì ok qualche puntualizzazione può esistere più di un context quindi possiamo avere più di un provider e possiamo diciamo distinguere il fatto che abbiamo bisogno di usare un certo valore piuttosto che un altro di un provider piuttosto che un altro quindi se io creo che so un context per avere le informazioni dell'utente un context per avere le informazioni della lingua un context per avere le informazioni delle notifiche che magari devo visualizzare un po' da tutte le parti nell'applicazione posso avere tre context diversi quindi di create context ne posso chiamare quante ne voglio è chiaro che però devo poi avere i corrispondenti provider scritti nel codice quindi i vari componenti provider scritti nel codice che prendono il value che corrisponde a quello che io voglio distribuire come valore ok e poi li uso a seconda del bisogno e direi che la cosa più semplice da fare è la use context ok questi sono appunto i context che sono stati creati col react create context così facendo non c'è bisogno di annidare i componenti se ne ho più di uno avendo a disposizione le variabili le singole variabili io programo come sono abituato se invece ne avessi più di uno e ho bisogno di avere le callback vuol dire che ho il componente la callback e dentro la callback un altro componente consumer un altro callback e così via chiaramente è una cosa scomoda ecco la troviamo qui questa è la scrittura con le callback e questa è la scrittura con gli use context quindi con gli hook è chiaro che non c'è confronto no? nel senso che in uno devo creare un componente scrivere una callback il secondo componente consumer scrivere la callback e finalmente posso scrivere quello che desidero io no? e poi devo chiudere tutto quanto eccetera queste sono invece diventate delle normali diciamo così variabili le uso come se avesse usato props punto solo che non c'è più scritto props punto perché? perché sono state caricate da questa use context che diciamo lasciatemi dire fa la magia per noi di andare a tirare fuori questa informazione dal context di react ecco attenzione io adesso vi ho raccontato come fare per usare questi valori se io devo modificare questi valori si applicano le stesse regole che si sono applicate finora cioè se sono uno stato questi valori io devo avere un meccanismo che nel componente dove c'è lo stato mi consenta di accedere alla funzione del set dello stato che mi modifica il valore come ho fatto finora finora ho passato delle callback sotto forma di props ai componenti l'abbiamo fatto prima ho passato la ad exam era una callback fatta per passarla al form per fare in modo che il form nella end submit potesse fare ad exam ok quindi mi andasse a modificare lo stato e qui il meccanismo è simile nel context potete metterci quello che volete noi abbiamo visto due esempi beh in realtà qui ecco qui qui abbiamo visto un esempio in cui il valore è un oggetto quindi non è solo italian english come prima è un oggetto per cui io posso avere tutte le proprietà che desidero una proprietà può essere l'informazione che mi serve username la lingua eccetera ma un'altra proprietà può essere tranquillamente una callback così come una props può essere una callback quindi se io creo una una callback e nel provider la metto come un campo di un oggetto che è il valore che il provider fornisce a tutti questa callback sarà a disposizione di tutti come ho user.name magari ho che so un button username non è che lo cambia diciamo con la lingua ho un button e ho language punto modify language che posso mettere in uno o un click dovunque in giro per i miei componenti ok basta che questi componenti possano usare la use context quindi questo è il senso di dire questa callback io la posso o passare come props però torno al problema di prima cioè non passo la prop del valore e passo la callback e allora se devo passare la callback tanto vale se no la posso anche includere nel valore del context come facendo in modo che il valore del context sia un oggetto che ha delle props che sono i valori che mi interessano e delle props che sono le callback per modificarli quindi se questo valore che fornisco mi deriva da uno stato come succede quasi sempre devo avere una callback che vada a chiamare la set del state di quell'oggetto ok alcune ultime indicazioni è chiaro che avere un meccanismo così tenta molto è un po' come quando iniziate a programmare vi dicono esistono le variabili globali oh che bella non devo più pensare alla visibilità delle variabili metto tutto nelle variabili globali ho risolto il mio problema ovviamente lo sapete benissimo che non è una buona tecnica di programmazione perché prima o poi vi sbagliate con i nomi date lo stesso nome a due cose diverse pensate che sia una cosa invece un'altra eccetera se avete un po' di diciamo gestione della visibilità della variabile fatemene errori qui lo stesso cioè il context appunto essendo una specie di variabile globale facciamo attenzione a non abusarne perché perché poi finisce che diciamo magari lo usiamo in un posto dove non vorremmo e ha qualche effetto collaterale che non avevamo previsto soprattutto ecco riduce la portabilità del componente un componente che riceve tutto come props lo copio incolla da un'altra parte gli do le props di cui ha bisogno e funziona un componente che si aspettava una roba tramite un context ha dentro scritto use context e se quel context non c'è nella nuova applicazione bisogna andarla modificare bisogna farla diventare una prop e così via ok quindi in questo senso riduce la purezza dei componenti funzionali noi siamo partiti con l'idea che i componenti funzionali ricevono tutto quello di cui hanno bisogno dal da un unico parametro che sono le props e questo è vero in linea di principio è vero poi però per far funzionare diciamo le cose a livello pratico stiamo introducendo in una serie di aspetti che fanno sì che il componente non sia proprio più una funzione pura abbiamo introdotto lo stato adesso abbiamo usato il context bisogna solo fare attenzione di usarli diciamo per gli scopi per i quali sono pensati quindi ecco non usateli semplicemente perché siete pigri anche perché è un po' come le funzioni se voi passate dei parametri chi legge il prototipo della funzione si aspetta diciamo certe cose diciamo fa anche un po' da documentazione in realtà nel componente react vediamo solo props e quindi bisogna leggere il codice per capire diciamo quali sono le props che passiamo però diciamo a livello concettuale il fatto che una cosa sia passata come props ci indica che non è una cosa che gestisce il componente cioè non è un suo stato ma qualcosa che deve venirci detto da chi ci crea come componenti è la stessa cosa succede qui ecco va bene non usare per correggere errori di design nel senso che a un certo punto mi raccomando succede a tutti succede anche a me succede a chiunque cominciamo a scrivere il codice abbiamo fatto la nostra pensata diciamo sull'organizzazione della dell'applicazione in termini componenti abbiamo detto lo stato lo inseriamo qua poi io domani mi sveglio e voglio mettere exam filter ok come fate in laboratorio avete il filtro voglio gli esami dell'ultimo anno un bottoncino a sinistra esami dell'ultimo anno bene non è che posso dire adesso come faccio allora cosa faccio comincio prendo gli exam dove li metto gli esami devo fare in modo quando questi esami arrivano al filtro cosa cioè se ho sbagliato il progetto dell'applicazione torno sul progetto e riaggiusto il progetto cioè se io mettessi un exam filter a questo punto la lista degli esami come vi succede in laboratorio finisce che deve essere visibile magari anche l'exam filter per qualche motivo e lo sposto in app la sposto non posso farci nulla cioè se devo fare in modo che sia visibile devo spostarla non c'è niente di male nello spostare uno stato vi ho detto prima vi ho già detto anzi un po' di volte finirà che nell'applicazione dell'esame quasi sempre lo stato finisce in app perché? perché magari sono informazioni che vanno distribuite un po' in tutta l'applicazione con questo meccanismo del context avete semplicemente la possibilità di evitare di prendere questo stato che se vi serviva che ne so in exam form per fare un esempio adesso qui c'è la lista degli esami mettiamo che ci fosse la lista dei codici di tutti gli esami possibili del politecnico così per l'aggiunta non devo scrivere il codice me la devo passare in exam scores exam table exam form o da passarlo tre volte come props va bene non c'è problema se c'è una necessità di questo tipo e ravvisate che sia meglio evitare di scrivere così tante volte l'attributo passare la props eccetera ma diciamo così teletrasportarla potete provare a creare un context ok ora questo esempio del codice non so se è il più adeguato perché se vi serve in tanti posti può aver senso gli esempi più adeguati li abbiamo visti prima quindi gli esempi più tipici diciamo così dove sono andati ecco il tema l'informazione sull'utente se l'utente è autenticato o no non so faccio vedere le cose rosse blu piuttosto che nero non lo so o qualcosa di questo tipo linguaggio eccetera ok ultima cosa io qui ho tagliato un po' solo fate attenzione che il meccanismo è un pochino più complicato di come ve l'ho raccontato semplicemente perché i provider si possono annidare ok anche se sono lo stesso provider e quindi dovete solo ricordarvi che nel momento in cui dovete andare a cercare il valore si va a prendere sempre il valore del provider più interno tutto qui ok però io onestamente questa cosa forse per me forse l'avrei quasi tolta nel senso che può essere utile in applicazioni veramente complicate dove c'è qualcuno che ha fatto un provider ma noi vogliamo sovrascrivere quel provider però diciamo nel momento in cui pensiamo tutto noi di solito questa cosa non ci serve però non volevo introdurla all'inizio se no cominciavamo a fare troppo pasticcio quindi context a disposizione da utilizzare con parsimonia magari provatelo con l'esempio giusto per fare una prova una volta però diciamo di per sé non è necessario per l'esame probabilmente non è necessario se non avete bisogno di distribuire tante informazioni in giro di solito l'informazione da distribuire all'esame per il tema d'esame intendo può essere che so l'utente autenticato ok perché è uno stato che ci serve a destra e a sinistra spesso ok siccome non chiediamo che ci sia la traduzione italiana e inglese quello non c'è il tema di nuovo non ci interessa eccetera vogliamo tenere un'applicazione l'applicazione è semplice quindi sappiate che esiste se ravvisate la necessità volete provare a utilizzarlo va bene ma di per sé non è un qualcosa di indispensabile ed è il motivo per cui ci abbiamo dedicato circa una mezz'oretta e non tanto di più mentre invece lo stato capire dove mettere lo stato e così via mi raccomando è fondamentale ok siamo a disposizione io e i miei colleghi durante i laboratori nelle lezioni e così via per darvi tutte le indicazioni di cui avete bisogno direi che se non ci sono dubbi o domande vi metto a posto poi l'esempio e vi faccio il commit vi avverto sul come si chiama sul slack no mi sembra ci siano domande quindi vi lascio tranquilli in laboratorio ci sarà da proseguire il nostro esempio credo nel terzo cosa c'è da fare ci sarà da usare lo stato credo forse qualcuno l'ha già fatto ci sarà da usare lo stato nel quarto saranno le route ok quindi c'è da far funzionare bene i filtri ok molti hanno già provato però diciamo quello è focalizzato proprio su sui filtri quindi uno stato la lista dei film e uno stato sarà il filtro selezionato questo è il nostro ideale se avete un'idea diversa per favore venite in lab raccontatecela perché dobbiamo discuterne ok perché perché dobbiamo capire magari ha un senso ma in un contesto un po' particolare e ci tengo che l'ho capiato va bene grazie e basta così grazie a tutti